Dal 16 al 25 febbraio alvia la Berlinale 2023, un luogo unico di esplorazione artistica e intrattenimento. È uno dei più grandi festival cinematografici pubblici del mondo che attira ogni anno decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Per l'industria cinematografica e i media gli 11 giorni di febbraio sono anche uno degli eventi più importanti del calendario annuale e un forum commerciale indispensabile. Il Festival Internazionale del Cinema di Berlino gode di una storia movimentata, nasce per il pubblico berlinese nel 1951 e è considerato il più politico di tutti i principali festival cinematografici. La Berlinale porta a Berlino le grandi star del cinema internazionale e scopre nuovi talenti. Accompagna i registi di tutte le discipline nei loro percorsi sotto i riflettori e sostiene carriere, progetti, sogni e visioni. Grazie alle sue numerose iniziative di settore la Berlinale è un importante motore di innovazione e un importante fattore economico a livello internazionale nonché per le aziende in Germania e Berlino. Il concorso è il fulcro del festival e proietta i film di cui si parlerà. Encounters è una piattaforma che mira a promuovere opere esteticamente e strutturalmente audaci, di registi indipendenti e innovativi. Panorama proietta un cinema straordinario, è un tradizionale favorito del pubblico e con il proprio premio del pubblico alla giuria più numerosa del festival. Il forum e il forum expanded rappresentano riflessioni sul mezzo cinematografico, il discorso socio-artistico e un particolare senso estetico. Generation presenta film che contano per i giovani cineasti e tutti gli altri. In Perspective, Deutaschino, i registi di talento proiettano i loro film d'esordio e portano una ventata di aria fresca al cinema con i loro stili individuali. Berlinale Special offre spazio per lo straordinario, il glamour e le preoccupazioni speciali del festival. Berlinale Series offre un primo sguardo esclusivo alle nuove produzioni in serie più entusiasmanti provenienti da tutto il mondo. Berlinale Classic e Hommage ti fa scoprire la storia del cinema e rivederla in proiezioni di altissima qualità. La presentazione speciale Berlinale Ghost Kids porta i film del festival e i loro cast troupe nei cinema d'esse. Sotto il termine generico di Berlinale Pro, infine le iniziative European Film Market, Berlinale Co-Production Market e Berlinale Talents and World Cinema Fund offrono a registi e rappresentanti del settore un servizio completo per la promozione dei talenti, la creazione di reti, lo sviluppo di progetti, la consulenza, produzione, finanziamento, sviluppo del pubblico, marketing, distribuzione e discorso. In tutti i suoi eventi specifici, Berlinale Pro definisce l'agenda nel suo impegno per la causa comune di promuovere una maggiore partecipazione e un'industria cinematografica più inclusiva e sostenibile. Insomma, la Berlinale è tutto quello che i cineasti desiderano.